Sì ragazzi bentornati a una nuova puntata del mio canale, oggi andiamo a vedere un gioco che si chiama Cartographers. Si tratta di un gioco roll and write senza il roll, nel senso che dobbiamo andare a mappare il regno della regina in questa mappetta qua senza però avere i dadi, quindi è un gioco simile a strade d'inchiostro ma non proprio uguale. Prima di cominciare vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale, vi lascerò in descrizione tutti i link per poter prendere questo gioco e ringrazio anche tutti i Patreon che mi supportano perché rendono davvero possibile questi video. Possiamo cominciare, voglio fare un video un pochino concentrato, devo ancora trovargli un nome, nel senso che di solito faccio un video di tutorial, un video di gameplay, mentre per questo titolo vorrei spiegarvi le regole mentre mi avvio a giocare, quindi farò una partita in solitario, il gioco si può giocare fino a quattro giocatori perché ci sono quattro matite dentro la scatola ma se prendete più matite potete anche giocare in molti di più. Vediamo un po' le carte che abbiamo già in tavola, abbiamo quattro stagioni che scandiscono praticamente il nostro tempo di gioco, si parte con la primavera, estate, autunno, inverno e in più abbiamo A, B, C e D che sono praticamente degli editti che dicono che cosa la nostra regina ritiene più prezioso, sotto i quali abbiamo le carte punteggio che ci dicono come fare punti. La prima stagione, la primavera, ci dice che noi faremo punti con l'editto A e l'editto B, poi si segue con B e C, C e D e poi infine all'inverno, dopodiché finirà la partita con D ed A. Durante il turno è abbastanza semplice, si gira una carta da questo mazzo, qui ad esempio abbiamo il ruscello, sostanzialmente dobbiamo scegliere un tipo di terreno e una forma e andarle a disegnare dentro il nostro regno. La forma che viene ritratta qui possiamo disegnarla specchiata oppure ruotata come vogliamo, quindi ad esempio io potrei disegnare un mare con questa forma ruotata ad esempio così oppure anche dall'altro lato e questa cosa la fanno tutti i giocatori in contemporanea, quindi viene rivelata la carta e tutti lo fanno. Quando tutti l'hanno fatto si gira un'altra carta e si va avanti, se capitano delle rovine del tempio come queste bisogna girare subito un'altra carta e la carta che viene fuori dovrà essere disegnata sopra le rovine. Le rovine se le vedete sono questi spazi qui semi trasparenti, quindi non sono spazi occupati. Queste invece sono le montagne che sono spazi bloccati, non possiamo disegnarci sopra. Se le chiudiamo, quindi se riusciamo a circondarle con caselle disegnate, prenderemo una moneta. La moneta la andiamo semplicemente ad annerire qui. Quando con la somma di questi numeri arriviamo al numero di tempo che ci dice la stagione corrente, che nel caso della primavera è 8, a quel punto finisce la stagione e veniamo valutati per quello che abbiamo fatto fino adesso e c'è scritto qui in basso come viene fatta questa cosa. Dobbiamo andare a calcolare i punti presi dalla carta A, i punti presi dalla carta B, le monete in nostro possesso, quindi se abbiamo ad esempio tre monete tutti i turni facciamo tre punti e questa qui è la carta imboscata invece che ci toglie punti in base a quello che succede nella mappa, dopo la vediamo. Segniamo il totale, andiamo a scartare la carta e poi si parte con l'estate. Bisogna mischiare un'altra carta imboscata dentro il mazzo, quando partiamo ce n'è una mischiata dentro e a ogni stagione ne viene aggiunta un'altra, sono quattro in tutto. Queste carte sostanzialmente ci dicono che dobbiamo passare la nostra mappetta nella direzione della freccia, quindi a un altro giocatore verso sinistra in questo caso e poi andiamo a disegnare quindi sulla mappa degli altri questa forma dove vogliamo con lo spazio dei mostri. Alla fine della stagione perdiamo punti per ogni spazio adiacente che non abbiamo occupato, quindi in sostanza dobbiamo occuparci dei mostri. I nostri avversari cercheranno di disegnarceli in un posto libero, in un posto che ci sta particolarmente scomodo e noi dobbiamo andare ad arginarli. Questa cosa qui se non state attenti fa perdere davvero un botto di punti. Chiaramente la carta imboscata che abbiamo mischiato all'inizio potrebbe non uscire e a quel punto al turno 2 ce ne troviamo due dentro ed è più facile che escano. Si sommano alla fine della partita tutti i punti che abbiamo fatto nelle varie stagioni, poi dopo si calcola se abbiamo vinto, andiamo a vedere qualche carta punteggio per capire come funzionano. Bonifica guadagni 3 stelle reputazione per ogni blocco di caselle coltivazione non adiacente a caselle acqua o al bordo della mappa. Guadagni 3 stelle reputazione per ogni blocco di caselle acqua non adiacente a caselle coltivazione o al bordo della mappa. Quindi quando viene fatto A noi sappiamo che dobbiamo avere dei gruppi di coltivazione non adiacenti ad acqua o ai bordi e dei gruppi di acqua non adiacente a coltivazioni o ai bordi. Ne vediamo un'altra così per capire. Ramo verde guadagni una stella reputazione per ogni riga o colonna contenente almeno una casella foresta. La stessa casella è valida sia come riga che colonna. Quindi potenzialmente se noi riuscissimo a tracciare una diagonale di foreste con il minor numero di foreste faremo il massimo dei punti perché ognuna prende un punto per la colonna e per la riga. Vediamo questa poi direi che iniziamo a giocare. Calderoni guadagni una stella reputazione per ogni spazio vuoto confinante su tutti i lati con caselle occupate o con il bordo della mappa. Questa è interessante dobbiamo praticamente lasciare dei buchi. Vediamo l'ultima insediamenti guadagni otto stelle reputazione per ogni blocco di almeno sei caselle villaggio. Molto interessante. C'è una piccola variante da tenere presente per giocare in solitario ovvero come vengono affrontate queste carte attacco del goblin insomma le carte imboscata. Sostanzialmente dobbiamo andare a guardare qui nell'angolino che angolo è disegnato quindi nel quarto di mappa in basso a destra. Noi partiamo dall'angolo e cerchiamo di disegnare questa forma senza ruotarla se è possibile farlo. Quindi in questo caso io la disegnerei sicuramente qui qui e qui. Se non è possibile vado nella direzione della freccia quindi verso in su di qua e cerco di disegnarla sopra. Se non è possibile vado sopra e faccio tutto il giro. Se non è possibile riparto dall'angolo ma spostato in dentro di uno. Mi provo qui provo qui provo qui provo qui eccetera e cerco di fare tutta la mappa. C'è anche un'espansione che adesso non vi faccio vedere. Comunque ve la descrivo brevemente. Ci sono delle carte azione praticamente che possiamo giocare. Ne mettiamo tre all'inizio della partita e mezzo al tavolo e possiamo spendere le monete quindi non ci daranno punti ma ci faranno fare una determinata azione. Questa doveva essere una sorta di promo o qualcosa del genere ma di fatto io ho preso il titolo in italiano e l'ho trovata dentro quindi credo che l'abbiano inclusa in tutti i titoli. Proviamo a partire. Allora giriamo una carta. Land dei portali da tempo zero. Ci dice che dobbiamo disegnare un quadrato uno per uno di un tipo di terra nostra scelta. Vi faccio già notare mentre comincio che prima di partire dovete scrivere il nome del cartografo, il nome della regione che andate a esplorare. Potete disegnare uno stemma. Il titolo se giocate in solitario non dovete aggiungerlo perché poi il gioco ci darà il nostro titolo in base ai punti che facciamo. Ad esempio se facciamo dieci punti siamo topografo itinerante. Questi vengono scelti prendendo il totale dei punti che facciamo alla fine della partita e sottraendo la somma. Vedete un P, un player, un giocatore di questi numeri qua. Quindi devo disegnare un quadratino uno per uno dove voglio sapendo che i gruppi, i blocchi coltivazione o acqua non li adiacenti a coltivazione o acqua o al bordo della mappa. Quindi io potrei ad esempio disegnare un blocco qua. Lo disegno coltivazione o lo disegno acqua? Lo disegniamo acqua. Ok, questo l'abbiamo fatto. Il turno finisce no perché non siamo ancora a 8. Quindi giriamo un'altra carta. Abbiamo carica dei bugbear. Bene, dobbiamo disegnarlo partendo dall'angolo in alto a sinistra, in alto a destra, scusate, non ruotando la forma. Direi che lo posso disegnare subito. Quindi lo disegno così. Ta boh, mi è andata anche abbastanza bene. Ci disegniamo la faccina cattiva che poi nel mio caso sono più dei conigli. Ok, una volta che l'avete fatto eliminate la carta dal gioco. Poi ne giriamo un'altra. Abbiamo la palude. Dobbiamo decidere acqua o foresta. A, T. La foresta mi fa fare punti perché prendo A e B. L'acqua mi fa fare punti se è isolata. Prendo la foresta. Prendo la foresta e la disegno qua, così. A questo punto siamo a due. Andiamo avanti. Grande fiume. Questo è ottimo. Magari da prendere con la moneta. Noi vogliamo dei fiumi piccoli. E devo anche iniziare a pensare come arginare questi bastardoni qua. Il fiume lo potrei mettere qui. L'ho disegnato da tre, quindi prendo anche una moneta. La vado ad annerire qua sotto. Andiamo avanti. Ruscello. Facciamo un altro ruscello e lo facciamo qui. A L. Ne approfitto anche per spiegarvi la diacenza in questo gioco. l'adiacenza è solo se un lato tocca un altro lato, quindi in diagonale non è adiacente. Quindi questo mi fa fare i punti. Siamo a due, tre, quattro, cinque, sei. Campo coltivato. Questo mi piace da fare piccolino da un'altra parte. Lo faccio qua sotto. Mi prendo anche una bella moneta. Due, tre, quattro, cinque, sei. Dobbiamo arrivare a otto. Rovine. Quindi ne giriamo subito un'altra. Rovine. Ammazza. Villaggio. Devo costruire un villaggio sulle rovine. E questa carta poi mi farà fare punti per ogni villaggio composto da sei case. Quindi potrei prendere la casa quella grossa. Non faccio i punti subito ma inizio a costruirlo. E deve essere sulle rovine. Quindi io lo faccio qua. Facciamo le casine. Sempre fatte rigorosamente a zampa di gallina. Siamo a due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Mi ricordo che siamo a sette. Otto, nove. Ok, questo è l'ultimo. È l'ultimo. Dobbiamo fare una colonia. Direi che la faccio qui, guarda. Fatta esattamente così e la faccio di prato. A questo punto abbiamo superato gli otto della carta primavera. Quindi questa la scartiamo e andiamo a contare i punti. Dobbiamo contare punti per la carta A, punti per la carta B, monete e i nemici. Allora, le monete sono due. Quindi qui ci scriviamo due e non abbiamo dubbi. Punti per la carta A. Tre punti per ogni blocco di farm oppure di acqua, non adiacente ai bordi o non attaccato a un altro acqua o farm. Quindi questo mi fa tre. Tre, sei. Tre, nove. Dodici. Quindici. Quindi faccio quindici punti per la. Il B invece mi dice foresta per ogni riga o colonna. Le foreste le ho. Un punto in questa colonna. Due, tre, quattro, cinque, sei. Perché le ho solo lì. Sei punti. Per andare a vedere quanti punti mi tolgono i mostriciattoli invece devo contare le casella adiacenti vuote. Quindi meno uno, una sola volta. Quindi questa non conta per tutte e due. Uno, due, tre e quattro. Questa è occupata. Quindi meno quattro. Sei meno quattro fa due diciannove. Prima stagione ho fatto diciannove. Adesso dobbiamo andare a prendere le carte che abbiamo utilizzato, rimescolarle in quelle che non abbiamo scoperto. Quindi di fatto le carte che girano sono sempre quelle. E ci dobbiamo andare a mescolare però una delle tre rimanenti carte imboscata. Non dovevo vederla. Anzi adesso le mischio. Ok ce ne andiamo a mettere una dentro. Mescoliamo il tutto. Poi siamo pronti a ripartire con la stagione invece dell'estate che ha sempre durata 8 però fa fare punti a B e a C. Quindi alla seconda e la terza. Giriamo carta. Rovine. Va bene. Quindi una secca su una rovina. Del colore che voglio. La metto qui in basso e la metto di così di farm. Così qui ho creato uno spazietto vuoto e inizierò a fare punti per questo. No scusate cosa sto facendo. Devo farlo sulle rovine. Che casino di storia. Scusate devo farlo sulle rovine. Quindi dove lo metto. Qua non mi piace neanche un po'. Vabbè copro una rovina a caso. Copro questa. Sempre con farm. Ok. Giriamo la nuova carta. Villaggio. Questo è interessante. Prendo quello con la moneta o quell'altro. Prendo quell'altro. Sto qua attaccato ai bordi. Così. Disegniamo tutte le casine. E abbiamo costruito il villaggio. Andiamo avanti. Siamo a uno. Campo coltivato. Lo prendo da due. Lo metto qua. Più una monettina. Procediamo. Ruscello. Ruscellone. Lo attacco qui nell'angolo. Guarda. Facciamo le ondine. Ok. Siamo a quattro. Porto. Case da quattro. Vengo su di qua. Non è il massimo però. Due, quattro, sei. Manca due. Eccole qua. Abbiamo finito il turno. Frutteto. Bosco. Il bosco dovrei coltivarlo un po'. Bosco lo metto qua. Guarda. Sembrano dei lecca lecca. A questo punto andiamo al punteggio. Carta B, carta C, monete e mostriciattoli. Quindi le monete sono tre. Carta B, fila o colonna delle foreste. Quindi una, due, tre, quattro, cinque per le colonne. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Quindi la B ci fa la bellezza di undici punti. La C invece è quadratini vuoti circondati. Qui ce n'è... No, questo non l'ho fatto alla fine. Ah, non credo nessuno. No, qui facciamo zero, ragazzi. E ci sottraiamo. Uno e due punti. Quindi facciamo dodici. Abbiamo fatto pietà. Andiamo avanti con la prossima stagione. Non sa se salta fuori qualcosa di buono. Rischiamo tutto. Andiamo a metterci dentro anche una carta imboscata. E andiamo a togliere la carta estate perché adesso siamo in autunno. Quindi facciamo C e D. Possiamo già partire, guarda. L'anda dei portali. Le disegniamo uno da uno. Uno da uno mi servirebbe qua per finire la casina da sei. Due, quattro, sei. Perfetto. Che adesso ci fa fare punti questo turno. L'anda dei portali è sempre la vita. Colonia, case o farm. Proviamo con le case? Proviamo con le case. La casa da quattro potrebbe non essere male. Poi andiamo... Vi ricordo che l'autunno ha solo sette di durata. Frutteto, forestina. Forestina però non fa più punti. Perché abbiamo C più D e dopo D più A. Quindi la foresta no, voglio fare dei campi di grano. Ma che ne sai tu di un campo di grano? Campo di grano che vado a sistemare qua. Così. Siamo già a quattro ragazzi. Cinque. Campo coltivato, non male. Voglio quello piccolino. E lo piazzo qua. Più una moneta. Più una monetina. Siamo a cinque. Dobbiamo arrivare a sette. Rovine. Salto dei coboldi. Partiamo dall'angolo in basso a sinistra. Dobbiamo disegnare questa forma. Andando in su la disegniamo qua. È meno bastardo di quello che pensassi. Giocando con i giocatori ti fanno delle cose molto molto più peggiori. Foresta. Questa è ancora valida la rovina. Questo mi piace perché è un po' così in diagonale. La metto sulla rovina. Quindi la... Perfetto. Benissimo. Foresta abbiamo detto. Allora, foresta così. Che mi copre la montagna completamente. Quindi prendo una moneta. Più prendo anche un'altra moneta perché la dava la carta. La vita. Va bene. Foresta non fa più punti. Però pazienza. Due, quattro, cinque, sei. Ne manca uno. Villaggio. Eccolo. La vita. La vita. La vita. La vita perché lo metto qui. E faccio i punti di Dio. Metto il villaggetto lì. Prendo la moneta di questo villaggio. Due, quattro, cinque, sei, sette. Siamo arrivati a sette dell'autunno. Quindi andiamo a fare i punti. La carta C. Ci dà punti per i quadratini isolati. Allora un punto. Siamo arrivati. Un punto. Va bene. D però mi deve dare tutto. Voglio tutto. Otto per ogni blocco di almeno sei caselle villaggi. Otto punti. Quindi questo ne ha sei. Due, tre, quattro, cinque, sei. Questo ne ha sei. Questo ne ha sei. Quindi otto, sedici, ventiquattro. Le monete sono sette. I coboldi mi tolgono uno, due, tre, quattro e cinque. Meno cinque. Quindi tre, ventisette. Procediamo. Scartiamo l'autunno. E andiamo in inverno. Queste carte le rimescoliamo qua dentro. E ci andiamo a mettere dentro l'ultima carta imboscata. E partiamo. Campo coltivato. Questo mi dà punti. Per me è la vita. È da due. Dove lo posso mettere? Che non sia adiacente ad altra roba. Qua. Mi frega una rovina. Però ho qui. Così. Un bel campetto coltivato qui così. Più una monetizia. Saccheggio. Partiamo dall'angolo in alto a sinistra e giriamo così. Dobbiamo disegnare una U. Non si può nella prima riga. Quindi passiamo alla seconda. No. Passiamo alla terza. Sì. Qua. E questo non è benissimo. Disegno i miei coniglietti rabbiosi. No. Aspetta. Ho sbagliato. Questo no. Ok. Scartiamo la carta. Arriviamo solo a secco all'inverno. Fiume. Fiume. Io lo voglio fare corto, corto, corto. Lo metto qua. Più una moneta. Colonia. Le case fanno ancora punti. Sì, ma per me non so se ci arrivo. Potrei fare lo stesso. Faccio lo stesso qua. Così chiudo una montagna. Chiudo la montagna e prendo una moneta. Foresta abbandonata. Qua, 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 qua. Metto da due. Più una moneta. Sì, in realtà. Boh, va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque. Manca uno. Ok, è finito il turno. Questa è l'ultima carta. Casine. Casine che però non ci stanno lì. Però non ci stanno da nessuna parte, se non sbaglio. Secondo voi ci stanno? Secondo me no. Secondo me no. Non ci stanno. Quando non ci stanno dobbiamo andare a disegnare un quadratino uno per uno di uno di questi due. Quindi disegno la casina qui, che tanto non mi aiuta perché fa solo cinque. E poi la stagione è finita. Dobbiamo contare D più A, quindi l'ultima più la prima. Qui prendo sempre direi 24 punti, che sono i gruppi di case da sei, che sono uno, due e tre. Questo è solo da cinque. Otto, sedici, ventiquattro. Le monete sono tre, tre, sei, tre, nove, dieci, undici. Niente male. A invece sono i gruppi non adiacenti, che non toccano i bordi, di acqua, questo da coglione l'ho messo lì, di acqua o fattoria. Questo tocca i bordi, allora sono uno, due, tre, quattro, cinque. Questo tocca i bordi, sei, sette, otto. Questo tocca i bordi, otto, sedici, ventiquattro. E gli ignol mi sottraggono uno, due, tre, quattro e cinque. Quindi ventiquattro più ventiquattro, quarantotto, più undici, cinquantanove, meno cinque, cinquantanquattro. Diciannove più dodici, trentuno, più ventisette, fa cinquantotto, più cinquantanquattro, che fa centododici. Devo andare a sottrarre ventisette più ventidue più venti più sedici, che fa ottantasette, meno ottantasette, quindi centododici meno ottantasette. Faccio venticinque, quindi sono tra il penultimo livello e l'ultimo, sono maestro mappatore. Scopazzoni ce l'ha fatta ragazzi, questo è Cartographers, io spero che il mio video vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al mio canale, di supportarmi su Patreon e noi ci vediamo alla prossima puntata.